Meno di 24 ore e si accenderanno i riflettori sulla Supercoppa di Volley, evento attesissimo al Palaverde, domani alle ore 17 tra Imoco Volley e Foppa Pedretti Bergamo. Il Palaverde si veste a festa con l'organizzazione di Lega Volley Femminile e Master Group Sport per un evento che sta attirando l'attenzione di migliaia di appassionati. Ancora qualche biglietto in vendita per completare il Palaverde da domani alle ore 12 ai botteghini del Palasport Trevigiano, casa dell'Imoco Volley che ha vinto il campionato. Ma dall'altra parte la Foppa Pedretti Bergamo sulla scia del primato in classifica nell'attuale Serie A1 si candida ad essere una grande avversaria per una sfida che darà spettacolo. Come si vince questa partita? Lo chiediamo alle Pantere. Si vince giocando tutti insieme per la squadra e soprattutto con tanta gente che tifa per noi. Penso che si vince giocando insieme e facendo le nostre cose il migliore possibile. Con un pubblico numeroso e vi aspetto tutti domani qui al Palaverde. Facendo più punti di Bergamo. Giocando meglio di Bergamo. Giocando meglio degli altri. Con l'aiuto del nostro grande pubblico. Con determinazione e voglia di vincere. Essere molto squadra e non molare su niente.